Difficilissimo raccontare Serge Gainsbourg, anzi, probabilmente troppo facile, perché la sua vita è stata una di quelle vite che sembrano scritte da un drammaturgo, da un regista cinematografico, da Simenon in uno dei suoi giorni migliori. Tutto oltre, tutto troppo, tutto eccellente, tutto fascinoso, donne, Parigi, alcol, fumo, gitane, notti, pigal, solo a dire a questi nomi è già letteratura, solo a dire questi nomi sono già suoni. Però non bisogna correre nel rischio, peraltro un rischio che tutti vorremmo correre, di parlare soltanto della sua vita, di come abbia sciupato, come diceva lui, le donne migliori che ci fossero in tutto il mondo in quel periodo, di come le portasse nella notte, nei club, di come le tradisse per poi telefonare, piangere e chiederle di tornare con lui. Ecco, tutto questo non deve farci dimenticare però che Serge Gainsbourg è stato un musicista straordinario, che ha fatto cose che non faceva nessuno, che è il grande merito di chi fa musica e chi fa arte. Ha utilizzato strumentisti eccezionali, arrangiatori come Jean-Claude Vanier, ma ci metteva del suo. È partito appoggiando la sua voce roca e notturna sul jazz e l'ha trasportato ovunque su cose che non esistevano, su aree cinematografiche con dei bassi profondi, bassi profondi che poi sono avvantati reggae. Tutto questo non esisteva. Quest'uomo, Serge Gainsbourg, non esisteva prima. È stato scritto da una mente superiore, questa è la mia idea. E tutto questo fascino, tutta questa grandezza, prima che ci avventuriamo, ciò che ci capita sempre, cioè raccontare una sua canzone, nella fatta specie, Je t'aime moins en plus, la canzone sporca per eccellenza. Credo che per omaggiare Gainsbourg e la sua grandezza, la Francia, la Francia dei poeti, questa volta invece che chiacchierare per tutto il tempo, leggerò qualcosa che ho scritto un po' di anni fa, che è stato un po' il mio tributo a Serge e a quel tipo di Francia. E quindi, prima poi di parlare ancora della canzone, vi leggerei un po' di ciò che per me è stato e resterà sempre Serge Gainsbourg. Dei francesi io apprezzo soprattutto la democrazia laica più evoluta, il Sautern, e la naturalezza nel trombare. Ma più di tutto Serge Gainsbourg, che va da sé, è un po' legato anche alla scioltezza transalpina del coito. Pensi a Serge e fischietti Je t'aime. Reazione immediata. Ti immergi nella iconografia gainsbourgiana e immagini Serge che sciupa le femmine, che si avvolge in un asciugamano e va sul balcone a fumarsi una sigaretta mentre guarda la senna che scorre. La rock star definitiva e lui. Je veux tout, rispose una volta Yves Montagne, che lo interrogava sulle reali ambizioni artistiche. Voglio tutto, disse. Una frase tra le mille roboanti rilasciati in vita che identificava in maniera impeccabile quello che lui definì il progetto Gainsbourg. C'è chi morde l'esistenza, chi la ignora, chi la strappa. Lui, Gainsbourg, se l'è quasi lasciata dietro. Non alle spalle, ma dietro. Troppo veloce e ineffabile Serge, sempre in anticipo e in contrasto sopra le cose. Geniale e sdegnoso. Francese soltanto come uno che non espira a esserlo e può diventarlo. Costantemente sotto un riflettore, talvolta cercato, sempre detestato, nell'esplosione della vita e soprattutto, al termine, nel marcire della vecchiaia. Gainsbourg non si è mai sottratto alla scomodità dell'essere artista, forse troppo sedotto dal piacere della provocazione per prendere fiato. Ha avuto donne bellissime, lui apparentemente così brutto, e avvolto nel bozzo impenetrabile del fumo delle sue sigarette. Gainsbourg è nato per caso nell'aprile del 1928, perché la madre, visto il sudiciume di un improvvisato ambulatorio per aborti, ebbe paura e schifo, e decise così di metterlo al mondo. Nacque all'anagrafe Lucien Gainsbourg, figlio di ebrei ucraini, venuto alla luce per merito della sporcizia di un interno di Pigalle, e quindi già pronto per la fuga. Prima ancora che il vizio si facesse largo sui tratti del suo viso, nel 1958, il giornale francese Liberation recensui il suo dibutto, Duchant Leung, come il disco di uno con la faccia d'assassino. Ha sempre esagerato, ma con grande classe. Sempre. Provocato con l'altezzosa naturalezza di uno che si stupisce della minuscola statura altrui. Ma quella che abbiamo definito la vita, troppo vita, di Gainsbourg non deve eclissare la sua grandezza d'autore. Ogni forma musicale è rinnovata nel suo sapiente incrocio di archi, di groove solido, di voce quasi recitante e di una ritmica che percepiamo alato. È stato un musicista impareggiabile, che sfilava sul lungomare della costa azzurra con donne splendide vestite soltanto di maglie a rete che lui teneva per mano. Un giorno disse, la mia vita si sviluppa intorno a un triangolo equilatero di gitane, etilismo e ragazze. Non isocene, equilatero. E il lato delle ragazze trova la sua linea retta quando Serge, con il doppio petto luridi e la barba sfatta, stringe le braccia sui divini contorni di Brigitte Bardot. Le fa indostare stivali neri fino alla coscia sulla moto di Harley Davidson, che è una canzone, e la circonda di wow, zap, per il fumetto in note di comic strip. E poi la battezza con il sacramento pop di Initial BB, ma soprattutto l'arma, stropicciandola fino a farle incidere a notte fonda, senza luci, quel miagolio divino che è Je t'aime bon en plus. Una registrazione verità, si disse. La Bardot che ansima è la registrazione sul campo sacrale, una vetta irraggiungibile. Io personalmente avrei voluto vedere la faccia del tecnico, una foto della sua espressione mentre manipolava il mixer guardando Gainsbourg che manipolava Brigitte Bardot. Tutto ultra, tutto talmente eccessivo che Serge si rivela troppo, persino per Brigitte Bardot. Lei, nonostante gli strappi letteralmente le camicie per non farla andare via dal letto, si spaventa. Je t'aime non viene messa sul mercato e la Bardot, beh, tutti sappiamo che Brigitte Bardot è un idiota, asserì con una certa naturalezza Marianne Faithfull all'epoca, si ritrae. BB ha paura di compromettere, in un sol sospiro per rimanere in tema, la carriera artistica e la vita personale, perché all'epoca è sposata con Gunther Sachs, nipote di Willem von Opel, fondatore della Opel, e come da copione dell'epoca un playboy di fama mondiale. Je t'aime finisce in un cassetto e dovrà attendere gli anni Ottanta a bollori sopiti per venire poi pubblicata, ma i suoi ran-ran di francese palpeggiare non possono andare in archivio tanto facilmente. Così, due sottovesti della Bardot dopo, con il profumo della Swing in London sui lunghi capelli, irrompe Jane Birkin. Gainsbourg la pesca sul set di Slogan, un film. Lei è già moglie del compositore John Barry, quello di Attenti quei due persuaders tanto per capirci, musicista straordinario anche. Jane Birkin è ventenne all'epoca ed è incapace di pronunciare una sola parola di francese. Serge ha il doppio dei suoi anni e disprezza tutto, persino lei pubblicamente, ma ben presto affoga nel viso di Jane e cerca di ipnotizzarla a colpi di Saint-Tropez, di camere d'albergo in cui dimorava Oscar Wilde, i violinisti assoldati apposta e portati dentro un taxi, per poi svenire al momento buono perché è troppo colmo d'alcol. Quindi decide. All'improvviso le fa incidere una nuova versione di Je t'aime en plus, coordinando i sospiri di Jane con quell'organo sacro che c'è nella canzone, andando e venendo tra i suoi reni, come dice la canzone. E già a Serge si pregusta il marchio di oscenità che poco dopo gli verrà inflitto dall'osservatore romano. Il mondo, ma non soltanto quello pop, si fa venire la febbre dei desideri su Je t'aime, che questa volta finalmente è pubblicata e diffusa. Per lo più si dice che i due si siano accoppiati furiosamente con un registratore sotto il letto. No, in quel caso avremmo fatto un 33 e non un 45 giri, sorride Serge. La regina di Danimarca, proprietaria di una buona fetta della Phillips, etichetta che pubblicò Je t'aime all'epoca, si dichiarò offesa e chiese di ritirare il disco esattamente nello stesso momento in cui tutti gli amanti del mondo ne replicavano la melodia tra le lenzuola. Tu vai e tu vieni tra i miei fianchi, dice la canzone, ed è detta con archi che svolazzano e il consueto glorioso basso in primo piano tipico delle canzoni di Gainsbourg. Eratismo for the people, si disse, che a dispetto di mille boicottaggi trionfa ovunque nel mondo. In Italia il procuratore della Repubblica ordina di sequestrare e distruggere il disco su tutto il territorio, boicottandolo come osceno. La RAI censura la canzone e vieta a Leglio Luttazzi, conduttore della seguitissima trasmissione radiofonica Heat Parade, di trasmetterla, nominarla o anche soltanto di indicarne la posizione in classifica. Mentre Serge e Jane Birkin si abbronzano con i flash dei fotografi di Cannes, il resto del mondo ascolta quella canzone e pensa che gli piace e pensa che vuole fare esattamente ciò che hanno fatto Jane e Serge. Intanto Jane ansima, come sempre, e dice a Serge di non trattenersi, di venire. Lo dice in una canzone e il 1969, che non a caso Serge, in un'altra canzone, battezza come Anne Erotique, per eccellenza. In Italia, intanto, qualcuno si muove. E la risposta artistica italiana, però, non pare molto all'altezza. Giorgio Albertazzi e Anna Proklemmer la reintitolano erroneamente «Ti amo e io di più». La negazione gesburgiana del «Muon and plus» pare essere ispirata da un'intervista in cui Picasso avrebbe confessato di essere troppo timido per rispondere «Anche io» a un'affermazione come «Ti amo», un superlativo troppo forte». Ecco, sarà già irritata e sempre ingombrante presenza vaticana sul suolo italico, ma la goduria fisica tra i reini della Birkin diventa una faccenda equivoca, anzi oculistica, perché nella versione italiana si dice «Io vado e torno da te dentro i tuoi occhi», anzi, dentro gli occhi tuoi, che fa più poetico. Degno di nota anche il passaggio in cui si dice «Tu sei l'onda e io la tua spiaggia», il tutto poi regalato con un'inattaccabile pronuncia drammatico-streleriana. Più che una trombata, come si diceva all'inizio, sembra la prova generale del giardino dei ciliegi di Anton Chekhov. Non meglio un'altra versione, quella di Ombretta Colli, che ha un tocco d'arc e un passaggio preoccupante come «Tu vai e tu vieni alle mie mani, tu vieni e tu vai come tu stai», regalato con un tocco di eco nella voce. Ecco qui la trombata francese, sembra un possesso da oltretomba. Ma Sergei Jane non se ne accordano, sono impegnati a possedersi e esplodere in pubblico. In questo momento Serge ha davvero tutto. Soprattutto Jane Birkin, che campeggia in corniciata con una frangetta da innamoramento istantaneo sulla copertina di Jane Birkin St. Hergul, Serge Gaygul, guardate che meraviglia, dove ci sono anche Je T'aime e 69 Erotique. Sostanzialmente si tratta di un coadievante erotico diviso su un lato A e su un lato B. E quando Sergei si accorge di avere davvero tutto, cos'altro può fare se non dissiparlo? Saranno anni artisticamente fertili e umanamente votati all'autodistruzione più assoluta. Una decca di dopo, quando per i mughalì di piacere di Je T'aime tutto suoneranno forse buffi, Jane Birkin, stremata, se ne andrà. E dirà questo. La monotonia di tornare ogni giorno a casa, esattamente alla stessa ora degli spazzini, dopo aver consumato un croissant e un decaffeinato a pigal, con i bambini che si svegliano nel momento in cui intravamo a casa, era troppo. E questa è la frase il commiato che meglio incornicia la stanchezza insanabile di Jane. Non ce la fa più. Non può più reggere Gainsbourg. E allora Sergei Gainsbourg prova a resistere i combatti, soprattutto contro se stesso. Entra ed esce dagli ospedali, mantenendo un'attitudine da suicida ottimista. Gli esportano tre quarti di fegato, le arterie delle gambe sono completamente andate. Cerca disperatamente Jane Birkin, sviene sui sedili delle auto della polizia e alla fine muore da solo. Nel suo letto, il 2 marzo del 1991, cinque giorni dopo, viene seppellito nel cimitero di Montparnasse, vicino ai genitori, ma anche a Sartre e a Hussmanns. Il suo lascito musicale è enorme. La portata umana a quella, invece, come dicevamo, non è stimabile. Ha voluto tutto. E gli dèi, che sanno come punire chi le sovrasta, gliel'hanno concesso. Ecco, questo è quello che scrivevo un po' di anni fa e che, a dispetto del Sauterni che ancora mi accompagna, credo che sia tutto condivisibile, assolutamente. Ciò che bisogna ricordare è che, incredibilmente, «Je t'ai mon en plus», una canzone scandalo, in realtà ha una musica perfetta, pulita. Anzi, Gesmu stesso disse che era musica purissima, è un organo da chiesa, sostanzialmente, e sono vietati i doppi sensi sul fatto che ci sia un organo al centro di questa canzone. Lui disse «Per una volta che uso una musica purissima vengo bastonato da tutto il mondo, ma è troppo intelligente per sapere che si è spinto davvero oltre, che ha fatto incazzare tutti, ma soprattutto ha fatto innamorare tutti, perché ci sono dei momenti in cui questa canzone aiuta». Figurati che Jane Birkin per sempre disse che lei rimase comunque legata a quella canzone. Tutte le volte che tornava in Inghilterra capitava che prendesse un taxi, che qualcuno la riconoscesse, anche perché era impossibile non riconoscere Jane Birkin, e le dicesse «Ma tu sei quella di «Je t'ai mon en plus»»? E diceva «Sì, cazzo, ci ho fatto tre figli con quella canzone». E allora, alla fine, molto spesso magari i taxisti non le facevano pagare i soldi per la trasferta. E anzi, una volta a Londra un taxista le chiese per favore di autografarle la copia, e lei si prestò a Jane Birkin andò a casa del taxista, le fermò la copia e ringraziò. Quella canzone era servita. Era servita non soltanto a rompere alcune barriere, ma a dimostrare che la musica poteva essere propulsiva, che la carica sexy del rock and roll, che partiva da Elvis Presley, arrivò persino nelle camere da letto grazie ai run-run di Serge. Ecco, quello che è buffo è immaginare che un artista così sopraffino, alla fine, prese la sua prima hit a 41 anni, quando aveva già composto delle canzoni meravigliose. Ma quando esce «Je t'ai mon en plus», Serge è già un uomo, fatte finito. 41 anni. E lui disse che nessuno, in realtà, perché era sempre controverso comunque la stampa di lui, e ripeto, troppe poche volte metteva in risalto la sua grandezza artistica, non gli diede quel riconoscimento che lui immaginava. E allora disse «Non me la danno loro? Nessun problema, me lo prendo io». E allora con un gesto tipico suo andò da Cartier e ordinò una stella ebraica, in omaggio alle sue origini, in platino. E fu anche questo un gesto da Gainsbourg che ogni tanto se l'appuntava per, come dire, per offendere chi aveva marchiato gli ebrei in maniera assai più sprezzante. Disse «Eccola qui la mia medaglia, eccola qui la mia stella da sceriffo, eccola mia stella in platino che mi sono preso da Cartier con i soldi di una canzone vergognosa». Lui era pieno di questi gesti. A ripensarci oggi, a ripensare anche alcune delle parole che ho letto prima, forse non sarebbe più ammissibile un personaggio come Gainsbourg in anni come questi. Qualsiasi sua posizione sarebbe criticata, qualsiasi suo voler tutto, il suo rapporto con le donne che peraltro ha sempre amato e glorificato, forse oggi sarebbe intollerabile. Ma tant'è. Lui è stato enorme e grandissimo. E tutte le sue canzoni sono canzoni fenomenali. Ha scritto grandi canzoni per il cinema. In questo album, la stessa «Je t'aime en plus» anni dopo, diventerà poi base di un film, uno dei tanti film in cui Gainsbourg farà, comporrà le musica. Certi sono terribili, si imbarcherà in operazioni che andranno addirittura anche libri dove parleranno di artisti della scorreggia, farà film e dischi su uomini con una testa di cavolfiore. Ma, per esempio, questo disco, quello dove c'è «Je t'aime en plus» contiene delle canzoni meravigliose, come «L'antiamore», che era stata scritta in realtà anni prima, pezzi scritti per François Zardin. C'è una canzone apparentemente bufa come tutto quello di Gainsbourg. Ogni tanto ha questo risvolto quasi comico che si chiama «Ohangutan», che in realtà anche qui è un sottile richiamo erotico, perché si rifà alla scimmietta di peluche che Jane Birkin si portava sempre dietro. Lui la esibì, esibiva le sue donne come trofei, ma non in un modo macista, semplicemente come un pezzo di quell'arte che era la sua vita. lui, Jane Birkin, comparve un sacco di volte completamente senza veli, a volte fotografata da Gainsbourg stesso su una rivista come lui, e lui disse, anzi una sua dichiarazione su un giornale della domenica fu «Non ho nessun problema mostrare la mia fidanzata nuda». E questo faceva incazzare tutti, però faceva se tutti venivano sedotti. Nel frattempo lui portava la sua musica si voleva, abbiamo detto, la portò fino al reggae degli ultimi tempi, in cui prese Slain Robby la sezione ritmica più importante della Giamaica, e fece ancora una volta incazzare i benpensanti, perché pensò bene di eseguire una versione reggae della marsigliese, l'inno francese. Non solo, si comprò, spendendo una cifra allucinante, il manoscritto originale della marsigliese. E a quel punto tutta la destra francese impazzì a vedere quest'uomo consumato dall'alcol, che diceva «porcherie» a dir loro, su un palco che cantava la marsigliese come se fosse una musica caraibica. Gli ex paracadutisti dell'esercito francese lo minacciarono, i musicisti stessi di Gainsbourg erano preoccupati di eseguirla dal vivo perché mi furono minacci gli attentati, bombe e carta. Quando sapevano che era in città ed era nell'albergo, minacciavano di far saltare l'albergo. E nessuno voleva più Gainsbourg nell'albergo perché davvero erano preoccupati. E quindi magari alle due di notte facevano evacuare tutti e si trovavano tutti in pigiama con Sergio che fumava una gitana e rideva perché i suoi giamaicani rude boy, apparentemente scaffatissimi, in realtà si preoccupavano di saltare per aria. Tutto troppo. Tutto troppo, come abbiamo detto fino all'ultimo, quando lui si consumò ubriaco, in televisione, ed era oramai soltanto più la pallida rappresentazione di se stesso. Ma non importa, perché Gainsbourg e quella canzone sono stati una parte della storia musicale, ma anche del costume, non soltanto della Francia che ci ha sempre insegnato quanto sia importante e come sia giusto godere, ma della musica e del mondo intero. Quando Gainsbourg se ne andò, io lo mantengo come una reliquia. Comprai l'edizione di Liberation, il giornale francese che vi ricordate, ho detto che l'aveva celebrato come uno con la faccia d'assassino. Ecco, all'interno di queste pagine ancora si celebra l'uomo e si celebra l'importanza finalmente del suo lascito artistico. Le foto, io vi invito a guardare qualsiasi libro, qualsiasi immagine di Gainsbourg qui e con Jane Birkin a Carnaby Street, anzi a Kensington forse, scusate, a Kensington, qua al termine della loro relazione, quando ancora comunque tutte le immagini sue, vedete, Reggi Calze, la Francia oltre la Francia. Gainsbourg oltre l'umano pensabile. Ecco, uno dei mille aneddoti in chiusura che possono ricordarci quanto Gainsbourg fosse più grande di se stesso, riguarda il fatto che verso la fine, cioè verso, anzi non nell'apice del suo rapporto anche sentimentale con Jane Birkin, andarono, lui seguì Jane che era anche attrice, e andarono in Jugoslavia, all'epoca era ancora tale, per le registrazioni di un film. Serge dopo un po' si annoiava, probabilmente si annoiava quasi sempre perché era tutto talmente portato a un livello alto, che un giorno infastidito anche da tutti, come dire, dei piccoli, anzi più che piccoli, dei costanti limiti imposti da un regime che era ancora di fatto comunista e sovietico, e Serge odiava i comunisti, ciò che il comunismo rappresentava perlomeno come imposizione di limiti alla sua libertà senza freni, un giorno prese una banconota jugoslava e lavorò ciò. E questo, quando si venne a sapere, perché lui chiaramente diede risalto alla faccenda, fu uno scandalo pazzesco, non soltanto era proibito, ma venne considerato da parte di Serge come un oltraggio capitalista a quella che era la valuta jugoslava. Quindi il governo jugoslava gli diede 48 ore per tornare in patria. Poi però questo film che si chiamava Slogan doveva essere ancora completato, quindi ottennero di avere una proroga di due settimane. Al termine esatto delle due settimane la polizia si presentò per essere sicura che Serge, il maledetto Gainsbar, rientrasse in Francia, che comunque all'epoca, e come sempre, era la patria più tollerante per personaggi come lui. Lui tornò in patria e pensò che però quei soldi, quei soldi comunisti, quelli che ai suoi occhi erano i soldi di un posto dove non si poteva esercitare le proprie libertà, dove non si poteva guardare la vita, doveva impiegarle in qualche modo. E allora si comprò un vecchio modello di Rolls-Royce, che per lui era una macchina elegante, ma era un simbolo capitalista, quasi uno sfragiù, un'offesa quasi punk, perché questo, l'ha detto Gainsbar in qualche modo, era il punk altiliter. Si comprò questa vecchia e bellissima e decadente Rolls-Royce, piccolo particolare, non aveva la patente e non sapeva guidare. Per cosa la usò? La usò come porta a cenere per le sue gitane. Ecco, questo, unito alle straordinarie note delle sue canzioni, è Gainsbar allo stato puro. E quindi ascoltiamo le sue canzioni, ricordiamolo, e pensiamo che nulla e nessuno potrà mai raggiungere le sue vette artistiche e le sue vette umane. Brindiamo, soterno, a Dio Sergio e grazie.